Quali sono le icon presenti su FIFA 23? Ragazzi oggi con questo video Andiamo a vedere le nuove icon Che ci saranno su FIFA 23 E quelle che rimarranno Contrariamente a tutti quanti i rumors Che sono arrivati in questi ultimi giorni Capocasile a stalla fine ci saranno Su FIFA 23 Mentre invece per una versione di diritti Per una versione di immagine Maratona, Guardiola, Overmars, Inzaghi, Geeks e Deco Non faranno parte Delle icon di FIFA 23 Quindi queste icon ci salutano Magari ritorneranno in futuro Vedremo ragazzi se troveranno un altro accordo Con Electronic Arts Ma H.F. e Casillas Che si hanno chiacchierate E si potevano dire ormai lontane Da questo FIFA Invece ci saranno Perché hanno trovato un accordo con Electronic Arts Ma la vera domanda è Quali sono le novità? Quali saranno le nuove icon Che vedremo da praticamente Da pochi giorni ragazzi Vediamole subito a vedere La prima icon sicuramente ragazzi In questione è Yarsinio Yarsinio ragazzi che sembra un simile Garrincha Credo che sia una delle icon più Diciamo Interessanti Che fa più gola all'utente Sicuramente lui avrà il doppio ruolo AT ed esterno Ripeto Secondo me è molto simile a Garrincha Avrà 5 stelle skill Molto probabilmente 4 stelle piede debole Comunque si presenta Un buon giocatore sicuramente Mi intriga molto la versione Quella baby Con quel capello Quella folta a chioma Sicuramente in game potrebbe essere Anche molto divertente Da utilizzare Fatemi sapere cosa pensate Qui sotto nei commenti Chiaramente ragazzi Come altro icon ragazzi Abbiamo Müller Un attaccante Incredibile Questo attaccante ragazzi Faceva gol veramente In tutte le posizioni E ovviamente ragazzi Come ben potete immaginare Guardando anche le statistiche Ci sarà da vedere Sicuramente Il fattore Velocità Somiglia Forse è molto Pambustin Chiaro che Pambustin Forse in game Risulta avere un po' Più di dribbling Chiaro ragazzi Come anche Per tutte le altre icon Vicevedere Body type E sicuramente Le stelle skill Piede debole Perché chiaramente Se questo Müller Lo mettono Stile Cantona Con 5 skill 4 debole Sicuramente anche Se è velocissimo Come ben potete immaginare Anche Cantona Fino ad aprile È comunque Utilizzabile Sicuramente Quindi Aprile Ma Aprile Ma Mars Aprile Maggio Magari Quindi comunque Secondo me Poi ricordatevi Che c'erano anche Le moment Di queste carte Secondo me Potrebbe essere Questa carta Molto interessante Chiaro che Se la vanno a mettere 3-3 Insomma ci facciamo Ben poco Potrebbe essere utilizzabile Soltanto per i fanboy E basta Fatemi sapere anche Mi una cosa ne pensate Qui sotto nei commenti Se mi intriga A me sinceramente Al momento Quella che Mi piace di più È gli Arzigno Sicuramente Guardano le statistiche Andiamo con la Terza Icon Nuova Ovvero Giabi Alonso Lui era Veramente 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 Molto Molto Forte L'unica Becca Che balza Subito all'occhio Di questo player È sicuramente La poca Velocità La poca Velocità Perché ha 70 Nella prime La bb Addirittura 67 E la mid 72 Io credo Ragazzi Non vorrei Sbilanciarmi Fate Tutte le clip Che volete Così già Ci troviamo Pronti Ma questa È una carta Che sicuramente Non sarà utilizzabile Ragazzi A meno che Chiaramente Qualcuno è fanboy Magari lo vuole provare Lo vuole testare Ci vuole fare una Wikileague Credo che Neanche Un'ipotetica Carta Moment Di questo Cevelonzo Potrebbe rendere Utilizzabile Perché è davvero Davvero Troppo 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 Lento Oltretutto Non è neanche Un grandissimo tiro A un discreto passaggio Magari Se lo sbustate I primi Due Tre mesi Potrebbe essere Utilizzabile Ma ripeto Anche un canteno Nonostante sia stato Nerfato Tantissimo A livello di Nucità Perché quest'anno Avrà soltanto 72 La carta base Lui la carta baby Di Cevelonzo A 67 Davvero 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 Poca roba Fatemi sapere Anche qui sotto Nei commenti Cosa pensate Di questo Cevelonzo E se secondo voi Potrebbe essere Una carta utilizzabile Queste diciamo Sono le tre Icon nuove Con Le icon esclusi Che vi ho fatto Vedere prima E le icon che Ci sono salvate Da questa esclusione Come Casillas E Cafu Fatemi sapere Sotto nei commenti Cosa ne pensate Ditemi Se Al comprete L'edizione Standard O avete già preso L'edizione standard O magari Aspettate il 26 27 Perché Vi ricordo che L'antimente esce Dalla notte 26 e 27 Quindi ragazzi Ma ci siamo poco Ci siamo arrivati Siamo arrivati veramente Al giorno tanto atteso Ci siamo Manca davvero poco Fatemi sapere Quale zino avete preso Quale state aspettando Noi ci becchiamo Nel prossimo video Lascia like E iscriviti Perché arrivano Tante sorprese Per il nuovo FIFA Mi raccomando Ciao ragazzi E iscriviti E iscriviti